È iniziata una nuova stagione del Governo del Territorio in Toscana e dentro pochi anni tutti i comuni si dovranno dotare di un nuovo piano operativo per la tutela del paesaggio dopo l'approvazione della legge regionale 65 del 2014 e del piano paesaggistico. Di tutto questo si è parlato nell'incontro la nuova stagione del Governo del Territorio, un percorso di confronto con i comuni organizzato dalla Regione in collaborazione con Anci al Livorno al Cisternino di Città. Abbiamo di fronte una stagione molto impegnativa perché da qui al 2019 tutti i comuni dovranno avviare i procedimenti per quanto riguarda l'adeguamento e la conformazione dei loro strumenti urbanistici alla legge. Ci aspettiamo circa 150 piani strutturali che dovranno essere avviati e 200 piani operativi. Il piano paesaggistico è uno strumento molto complesso messo in campo alla Regione Toscana su cui anche noi come Anci ci siamo impegnati molto sulla formazione perché essendo appunto uno strumento articolato, difficile, c'è stata necessità di formazione sia per i professionisti delle amministrazioni che anche per i professionisti esterni e quindi abbiamo cercato di, come Anci, di divulgare più possibile questo strumento in modo da farlo entrare al regime. L'incontro è stato il primo di una serie di cinque che si terranno in tutta la Toscana con amministratori, professionisti e tecnici per discutere e confrontarsi sul futuro del Governo del Territorio. Dopo Livorno sarà la volta di Lucca, poi Grosseto, Prato e Arezzo. Grazie a tutti.